Buonasera da Infostudio. Stamattina è iniziato il dibattimento per quanto riguarda la vicenda giudiziaria legata alle violenze subite ripetutamente per due anni da una ragazzina di merito portosalvo tra il 2013 e il 2015. Aveva 14 anni questa ragazza quando iniziò questo calvario per lei. Ebbene, i giudici del Tribunale di Reggio Calabria hanno deciso che il processo a carico di sette giovani originari di merito portosalvo si svolgerà a porte chiuse. Nell'inchiesta che ha portato al processo è stato arrestato anche un ottavo giovane che all'epoca dei fatti era minorenne. Attualmente la ragazza è ospite di un centro protetto e con l'aiuto di operatori specializzati sta tentando di ricostruire la propria esistenza segnata da questa violenza che era iniziata perché il fidanzatino dell'epoca l'aveva ceduta al gruppo. Tra gli imputati c'è anche il figlio del boss Remingo Iamonte, vale a dire Giovanni Iamonte che era stato arrestato, il boss era stato arrestato lo scorso anno. Gli inquirenti lo indicano, cioè questo giovane rampollo della clan Iamonte come il capo del gruppetto dei violentatori. Regione Calabria e comune di merito portosalvo hanno depositato la richiesta di costituzione di parte civile, così come farà dovrebbe fare anche il fratello della giovane. A Ciro i carabinieri hanno denunciato per abbandono di minore una donna di 20 anni che ha lasciato i suoi due figli, uno dei quali di due anni e l'altro di appena sette mesi, soli in casa per andare in paese. I carabinieri sono stati richiamati dal pianto di rotto di uno dei due bambini, hanno notato la porta dell'abitazione socchiusa, quando sono entrati hanno trovato il grande che gironzolava liberamente e l'altro nella culla che piangeva. La madre è stata rintracciata poco dopo e denunciata e fra l'altro il medico che è stato fatto intervenire ha comunque constatato fortunatamente le buone condizioni di salute dei due bambini. Una vicenda da film statunitense, nel senso che di solito sono gli americani a fare queste cose, gli inseguimenti in particolar modo. Quella che ha visto però al centro un 19enne di Rogliano che è stato arrestato questa mattina per furto aggravato, danneggiamento e resistenza aggravata a pubblico ufficiale dopo un inseguimento che è andato avanti per una trentina di chilometri sulla statale 18. Il giovane era a bordo di un autocompattatore di piccole dimensioni di proprietà della società Ecologia Oggi di La Mezzia Terme che era stato rubato. Quando è stato scoperto si è dato alla fuga e ha realizzato pericolose manovre sulla statale, in quel momento molto trafficata. Quando è arrivato all'altezza di Nocera Terinese dopo aver percorso contro mano e da tutta velocità un tratto a senso unico, vistosi braccato, ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Era la vecchia sede del Rettorato dell'Università Magna Grecia, sarà la nuova sede del Proveritorato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Catanzaro. La convenzione per l'utilizzo di questo immobile che era da tempo fra l'altro abbandonato e quindi non più usato per scopi pubblici è stata siglata ieri tra il Comune, la Provincia e l'Amministrazione Penitenziaria. Molto presto, il tempo di adeguarla ed attrezzarla, Catanzaro avrà una nuova sede per il Proveritorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. Ieri è infatti stata siglata la convenzione tra Comune, Provincia di Catanzaro ed Amministrazione Penitenziaria che destina ai locali di via San Brunone di Colonia, da tempo chiusi e dunque improduttivi, di proprietà della provincia ed in passato appartenuti all'Università Magna Grecia, a nuova sede regionale dello stesso Proveritorato. Si tratta di un risultato ottenuto, come hanno sottolineato tutti, grazie ad una riuscita sinergia tra enti, che conclude la fase avviata nei mesi scorsi col Ministero della Giustizia, che aveva richiesto di individuare una struttura che fosse adeguata ad ospitare gli uffici penitenziari, stante l'insufficienza dei locali che erano stati indicati in un primo momento dal Comune. Al di là del buon esempio di collaborazione interistituzionale, c'è da tenere presente che la scelta permette di realizzare un notevole risparmio economico per le casse pubbliche, abbattendo i fitti passivi. La provincia ha mostrato sensibilità nel dismettere una parte non utilizzabile del proprio patrimonio per garantire ai cittadini una migliore qualità dei servizi. Oltretutto la sede del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria era diventata oggetto di una battaglia politica iniziata nel 2014, quando il Ministro Orlando aveva fatto cenno ad un trasferimento degli uffici ad altra sede, in aperto contrasto col dettato normativo di una legge del 1990, che individua nei capoluoghi regionali le sedi degli uffici dei provveditorati regionali. Da allora era iniziata la ricerca di una sede che soddisfacesse le esigenze dell'amministrazione penitenziaria e che permettesse a Catanzaro di mantenere una prerogativa ad essa aspettante. È raggiunto un obiettivo importante per la città di Catanzaro, per la regione, ma anche per l'amministrazione dello Stato in generale. Io rappresento un'amministrazione nazionale che ha cercato una soluzione finalizzata a fare risparmiare il contribuente, perché attualmente siamo in una situazione di affitto, quindi onerosa. La legge dello Stato ha preveduto la sede regionale dell'ufficio del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. Devo dire che questa è tutta una vittoria del Consiglio Comunale, che con un'attività iniziata nel lontano 2014 e che oggi si conclude con la stipula della Convenzione. Quindi il Consiglio Comunale, l'attività politica portata in essere insieme all'Aula, ha fatto sì che le prerogative di un capologo di regione venissero ascoltate e quindi si sono concluse con questa firma di questa Convenzione. Ringrazio la dottoressa Calandrino perché ha saputo raccogliere un po' le esigenze del capologo di regione, attuando al tempo stesso un risparmio di spesa per lo Stato. È stato fatto un ottimo lavoro di sinergia, si è fatto rete tra amministrazioni pubbliche, tra enti locali e siamo riusciti oggi a concretizzare un atto di buona amministrazione che sicuramente permetterà al Ministero di non spendere soldi per i fitti passivi e alle amministrazioni locali che avevano queste strutture vuote da quando è andata via l'università, che andavano spesi dei soldi per essere strutturate e come diceva lei non c'erano più questi fondi, oggi vivono di nuovo quei locali e dentro c'è un'amministrazione peritenziaria. Chiediamo scusa per la sovrascritta che avete visto poc'anzi, il sottopancia viene chiamato in gergo tecnico, Ivan Cardamore non è docente unica, magari per carità, titolo assolutamente meritorio, però si tratta del vice sindaco di Catanzaro. Un incidente stradale mortale si è verificato la notte scorsa all'altezza di Corigliano Calabro sulla statale 106, ha perso la vita un uomo di 68 anni di Rossano, si chiamava Giuseppe Calabria, che con la sua auto si è scontrato contro un auto articolato. In un primo momento Calabria reagiva, era lucido, parlava normalmente, è stato portato in ospedale a Rossano per alcune fratture, poi però le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito all'Annunziata a Cosenza, dove però è deceduto. Sempre a Corigliano Calabro, un uomo di 42 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri per aver più volte minacciato e picchiato l'ex moglie. La donna nei mesi scorsi aveva denunciato ai carabinieri come l'ex marito l'avesse picchiata perché non si rassegnava alla fine del loro rapporto. L'uomo che in passato ha già posto in essere simili comportamenti, ha anche tentato di investire la donna con l'auto. Il sindaco di Catanzaro Abramo ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto il divieto di utilizzare per uso alimentare, insomma per le cotture, l'acqua erogata dalla rete idrica del quartiere Santa Maria. Secondo i controlli dell'azienda sanitaria provinciale, infatti l'acqua prelevata nel punto di Piazza Procopio, nel quartiere appunto, è risultata non idonea al consumo umano in quanto non conforme al parametro microbiologico relativo ai coliformi fecali. Può essere utilizzata per la pulizia della casa, anche per il funzionamento di impianti elettrici e l'igiene della persona. Il Comune ha chiesto già alla Sorical di provvedere subito alla pulizia del serbatoio di via Solferino del quartiere Santa Maria. Le Rotte di Ulisse, il libro di Massimo Tiganisava, è ormai un progetto ad ampio spettro per il rilancio culturale della nostra terra e perché essa abbia un ruolo importante per recuperare quella crucialità che aveva in passato, proprio per qua, anche e soprattutto per quanto riguarda la cultura e l'accoglienza. Se n'è parlato al Parco Scolacium di Borgia. Un libro dal quale nasce un grande progetto di valorizzazione della Calabria, della sua identità e delle sue risorse. Ulisse e le Rotte del Mediterraneo, il volume che Massimo Tiganisava ha scritto col determinante contributo del docente e ricercatore tedesco Armin Wolf, è ormai un vero network che ha intenzione di mettere insieme idee e progetti, uomini ed associazioni, italiani e stranieri, e di diventare un nuovo modello di intraprendenza, incentivando nuove forme di valorizzazione legate appunto alle rotte del Mediterraneo, che da cruciale snodo della civiltà e del progresso umano si sono trasformate in drammatici scenari di disagio. Il confronto, da tempo avviato, è proseguito anche presso il Parco Scolacium di Borgia a cura della Fondazione Armonie d'Arte, che del resto ha avviato dal canto suo rapporti con altre realtà che credono in questo approccio e che proprio nel Mediterraneo cercano la propria rotta. L'Italia e la Calabria in particolare possono e devono avere un ruolo chiave in questo ripensamento di ideali e di valori grazie alla loro valenza simbolica e ad un potenziale narrativo con pochissimi altri uguali a livello globale. La forza delle idee, l'intraprendenza umana, il mare che porta civiltà è questo ciò che sottende al nuovo progetto di Fondazione Armonie d'Arte che è Ulisse e le rotte del Mediterraneo, l'idea di un network appunto di idee, di progetti concreti e di uomini soprattutto. Noi lanciamo questa sorta di esca e speriamo, ma siamo già certi perché tante adessioni abbiamo già avuto, che questo possa essere quella rete che non è più solo di gente di buona volontà ma gente di sapere e di azione che nel segno di Ulisse, quasi un mentore immateriale perché simbolo di intelligenza e intraprendenza possa dare vita a una nuova valorizzazione non solo della Calabria ma un'idea di quello stivale, l'Italia incuneata nel Mediterraneo che non deve essere più come oggi viene percepito, un luogo del disagio portatore di storie tristi, di uomini che arrivano sui barconi invece deve tornare ad essere quella via del confronto ecco le rotte, il senso della possibilità dell'uomo di cavalcare gli spazi per arrivare ad altri uomini e confrontarsi la Calabria ha bisogno sì di progetti concreti ma anche di idee solide noi siamo qui per questo, ne parliamo con tutti con intellettuali, studiosi, istituzioni lo facciamo a tutto campo, certi che da qui passa lo snodo del futuro possibile Sabato prossimo in 103 piazze italiane comprese le 5 dei capoluoghi di provincia calabresi torna io non rischio la campagna informativa della Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Associazione Nazionale per le Pubbliche Assistenze che in pratica è una campagna informativa su terremoti, alluvioni e maremoti per sensibilizzare i cittadini sui temi della prevenzione e renderli appunto più consapevoli contro i rischi naturali lo scopo, ha detto il capo Dipartimento della Protezione Civile Borrelli è rendere la cultura della prevenzione un patrimonio condiviso da tutti rendendo i cittadini più consapevoli e quindi più esigenti anche nei confronti delle proprie amministrazioni perché si dotino di piani di protezione civile comunali aggiornati come detto 103 capoluoghi di provincia 750 le organizzazioni di protezione civile che ogni giorno sono impegnate in Italia per la prevenzione coinvolte 5.000 i volontari che andranno nelle piazze e se volete saperne di più c'è anche il sito internet www.iononrischio.protezionecivile.it e adesso lo spot preparato per questa edizione 2017 Io non rischio, buone pratiche di protezione civile affrontare un rischio naturale non è facile ma tu puoi fare molto per ridurne gli effetti vieni a scoprire come nella piazza del tuo capoluogo di provincia dove i volontari di protezione civile ti aspettano con la campagna Io non rischio scopri di più su www.iononrischio.it E quindi Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo, Valencia e Reggio Calabria coinvolte è tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento con InfoStudio a domani alle 13.50 a domani alle 13.50